Sono cento anni dalla sua nascita quindi questo viene ricordato un po' in tutto il nostro paese e anche all'estero e ci inseriamo quindi in questa ottica del centenario. La mostra del cinema ha voluto lasciare uno spazio, lascia sempre uno spazio poi ai classici accanto alle novità che sono il cuore del festival e la proposta dell'Oliveriana che ha un fondo fellini con alcune... anche qualche cosa di inedito ma soprattutto una raccolta di tutta la produzione critica sull'opera del grande maestro riminese ha pensato di dedicare una serata di riflessione insieme a degli esperti e poi alla proiezione di questo film che è poi il suo testamento, l'ultimo film che fa fellini nel 1990 cioè tre anni prima di morire. Dice tante cose, tante cose sull'Italia, sul mondo, su se stesso che sono di grande interesse. In questo film fellini prende spunto da un romanzo, la poetica dei lunatici. Non era la prima volta e poteva anche non essere l'ultima volta. Beh, in effetti aveva questa abitudine fellini, abitava a Roma via Margutta, vicino c'è Piazza del Popolo, la libreria Feltrinelli di Via del Babuino, lui faceva due passi e andava a vedere un po' le novità. Vede questo libro di Cavazzoni che era in quel momento un giovane studioso, universitario, ai suoi esordi come narratore che racconta un gruppo di squinternati amanti della luna in un paese della bassa padana e si innamora dell'idea e si fa dare il telefono e lo chiama a casa. Questa è una prassi che Fellini aveva, l'ha fatta anche con diversi altri autori e uno dei quali vuole il privilegio delle coincidenze sono stato io. Un anno dopo questo film, nel 91, in una serata di festa natalizia, mi sento arrivare una telefonata, una vocina sottile, sottile, che dichiara di essere Federico Fellini che ha letto il mio libro. E qui nasce un'amicizia, mi permetto di dire, e un'idea sua di fare un film era uno dei due o tre progetti che coltivava e purtroppo di lì a due anni, poi meno di due anni, avrà poi quella serie di crisi che lo porteranno alla fine.